buongiorno amici e bentornati sul canale youtube sul mio canale youtube per un nuovo aggiornamento sui mercati finanziari non ho la sfera di cristallo quindi tranquilli non faccio previsioni a caso e non è mia intenzione questo no era una battuta perché visto che ieri in molti mi avete scritto che dunque sono uno dei pochi che si sbilanciano le previsioni ma in realtà non faccio previsioni facciamo ipotesi leggiamo i grafici grafici in genere ci dicono dove sta andando il mercato dove sta andando un certo stock una certa commodity se siamo bravi e se siamo bravi a leggerlo e facciamo un'analisi ben accurata allora possiamo anche ipotizzare che un grafico possa poi fare un movimento di un certo tipo perché la statistica ci dice questo poi ovviamente le sfere di cristallo ce l'hanno solo gli analisti dei grandi delle grandi banche investimento no come quelli di goldman sachs che vedono l'oro a 3000 dollari per quest'anno scusate se insisto su questa cosa perché comunque a me fa molto ridere no perché è basata sul nulla se non ci sono degli argomenti tangibili sotto quindi per il momento dunque l'oro che abbiamo visto è completamente ribassista e poi comunque andremo a fare un dettaglio andremo a vedere qualche dettaglio sull'oro perché vi farò vedere qualcosa di molto interessante che potrebbe esservi utile anche a voi detto questo andiamo a vedere un attimino cosa sta succedendo sui mercati quindi oggi è venerdì andiamo in chiusura di settimana se chiusura di settimana molto interessante come al sempre ma sono sempre interessanti le chiusure perché perché veniamo innanzitutto da una settimana di rialzi importanti quindi guardate qua il nasdaq e l'sp 500 vedete ve li porto qua insieme che hanno fatto con questa settimana veramente dei balzi molto interessanti tornando sui massimi e andando addirittura a stabilire nuovi record sia qui per il nasdaq a 13.586 in questo momento e sia qui soprattutto per l'sp 500 a 3873 ieri e anche l'altro ieri avevo detto che qua bisogna fare attenzione perché questi raggiungimento di questi massimi nuovi massimi poteva corrispondere a un nuovo doppio massimo sul grafico sul giornaliero doppio massimo che poteva innescare una qualche inversione di tendenza quindi siamo andati un pochino a cercare di capire effettivamente se il mercato ieri poteva invertire la rotta o meno ieri il mercato ha iniziato ieri soprattutto gli indici americani perché quelli europei sono rimasti abbastanza contrastati più o meno il mercato americano con future abbastanza basso ha iniziato in maniera abbastanza piatta poi ha chiuso in serata con dei rialzi abbastanza decisi vedete qua il nasdaq ha fatto mi sembra più 0.50 meglio l'sp 500 che ha chiuso addirittura sopra l'1 per cento ora andiamo a vedere il future che dice il nasdaq è 0.09 quindi leggermente positivo l'sp 500 0.25 ieri il dow jones ha chiuso a 1.08 e il russell per il momento più 0.40 russell che ieri ha fatto più 2 per cento se non ricordo male parte molto bene invece l'europa soprattutto parte molto bene il fusi mib il mib italiano quindi più 1.29 per cento per l'indice italiano e qui ovviamente pesa tantissimo l'effetto draghi quindi è chiaro che draghi porta fiducia agli investitori sul mercato italiano perché ovviamente è uomo di banche centrali è un uomo che è un economista stimato da tutti e soprattutto insomma è un tecnico e quindi come tutti i tecnici ovviamente non si farà speriamo condizionare troppo dai movimenti politici speriamo questa staremo a vedere poi cosa succederà e notizie comunque positive arrivano dal mondo dei vaccini johnson e johnson ha chiesto al food and drink administration italiana americana di attivare una procedura d'urgenza per l'approvazione del suo vaccino che sarà un vaccino monodose e la cui tra l'altro gestione logistica sarà molto più semplice rispetto ai vaccini pfizer biontech perché non richiede resiste di più ai sbalzi delle temperature quindi adesso staremo a vedere quindi anche johnson e johnson alla fine riesce a entrare nel meccanismo nella gara dei vaccini riesce a entrare in questo business per così dire e detto questo poi andiamo a vedere un po cosa è successo in in asia allora csi 300 più 0 17 per cento china 50 più 1 e 58 angsteng 0 0 2 giappone più 0 49 per cento l'euro stock segna più 0 54 il vix 0 51 per cento a 21 punti abbastanza stabile quindi oggi siamo a venerdì venerdì in genere si tende a tirare un pochino i remi in barca staremo a vedere che cosa succederà effettivamente nel pomeriggio sui mercati americani i mercati europei per il momento sembrano ben avviati e questo ci fa ben sperare per il proseguio della giornata e andiamo un attimino a vedere innanzitutto il forex perché perché l'euro dollaro è andato a rompere una struttura interessantissima ai 1,20 quello che vi avevo segnalato qua come primo supporto l'ha rotto proprio nella candela ieri in maniera abbastanza decisa oggi sta tentando un leggero rimbalzo vediamo qua infatti che il dollaro dopo essere andato a realizzare ancora una fase rialzista ieri per il momento sta un pochino riposando però tendenzialmente diciamo per il momento il dollaro resta in una fase assolutamente rialzista quindi è probabile che vedremo ancora soffrire un po' l'euro nei confronti del dollaro che altro? allora lasciamo la stare il forex andiamo a parlare un attimo di stock velocemente perché che cosa è successo? che cosa è successo ieri? ieri sono stati le sono usciti gli earnings di alcune aziende molto molto interessanti e lo guardiamo lo guardiamo lo guardiamo lo guardiamo qua sono usciti gli earnings di pinterest che ha frantumato le aspettative fa un pre market di più 9% lo faccio vedere io su pinterest tra l'altro sono molto contento di questo balzo perché la stavo aspettando io su pinterest ho un outlook molto molto positivo di lungo termine guardate qua infatti cosa vede il prezzo al momento ieri della chiusura di 77,84 segna al momento un 85,50 molto bello questo balzo di pinterest sono molto soddisfatto poi dati anche per activision il produttore di videogiochi che guardate qua segna anche activision un più 8% se non ricordo male in pre market e va a toccare addirittura i 100 dollari quindi molto interessante anche lì e poi altri dati interessanti quelli di gopro ieri gopro che non sono stati così entusiasmanti i dati di gopro e infatti guardate qua il pre market è estremamente pesante segna già un meno 10% quindi davvero dei pre market molto molto pericolosi molto molto pericoloso molto molto diciamo difficile per gopro anche Snapchat ha rilasciato i suoi dati dati che comunque non erano così brutti come numeri ma che probabilmente nel dettaglio io non sono andato a guardare ma qualcosa di complicato ci deve essere stato perché Snapchat segna adesso il meno 8% in pre market e quindi davvero davvero interessante ieri abbiamo parlato invece di Virgin Galatics e avevamo fatto un ragionamento vi ricordate proprio nel video di ieri abbiamo fatto un ragionamento abbiamo detto che c'era questa interessante possibilità Virgin aveva un pre market in ribasso e avevo detto che poteva qui realizzarsi una candela rossa all'interno di questa candela verde e qui si era formato questo arami che era un arami bullish quindi riazzista e non avevo riscontrato divergenze sull'RSI l'unica divergenza ce l'avevo sul momentum e guardate che ieri infatti Virgin ha fatto questa candela rossa con questo spike qua su vedete è andata a toccare i 62 dollari e poi è rientrata alla fine il corpo è rimasto dentro la candela verde ora vediamo se questo oggi sarà indice di una tendenza ribassista perché ovviamente qua cosa è successo? è successo che ieri c'è stato lo spike c'è stato questo spike qua e quindi se andiamo a vedere gli spike precedenti vedete qua cambia la tendenza del prezzo quindi c'è stata una tendenza al rialzo con una divergenza nell'RSI e quindi questo potrebbe essere un segnale pericoloso ok? tuttavia si dovrà vedere adesso come aprirà la giornata e come intenderà chiuderla non mi aspetto che comunque anche se debba essere una giornata negativa vada sotto il corpo di questa candela verde ok? mi aspetto che comunque semmai dovrebbe rimanere insomma intorno a questi valori qua però staremo a vedere cosa succederà e che altro? Nokia che ieri ha rilasciato i dati i dati discreti in realtà non così brutti ma l'outlook per il 2021 non è esaltante anzi dati in sé come numeri anche buoni ma l'outlook per il 2021 non è esaltante e il mercato l'ha punita con un meno 7% continua la vicissitudine di GameStop che torna a 53,50 è sceso degli altri 42 punti percentuali ieri e adesso segna già un pre-market a 49 dollari qua veramente a questo punto sembra quasi che siamo arrivati al game over quindi sarà il caso per gli amici di Reddit di indirizzarsi da qualche altra parte a meno che non vogliono tentare di nuovo una sortita poi andiamo a parlare velocemente del gas perché come vi avevo detto ieri occhio al gas perché stava segnando un momento ribassista ma era qui e avevo detto occhio che la candela del gas potrebbe ancora cambiare nel corso della giornata infatti ieri sono usciti i dati sui consumi più che altro sullo stock i dati che sono usciti su Invest in Common non erano esattamente corretti perché poi li sono andati a guardarmeli sul dati dell'ente governativo dell'energia americana e lo stoccaggio del gas è diminuito rispetto alla settimana precedente quindi abbiamo ovviamente la tempesta perfetta per quanto riguarda il prezzo del gas diminuzione delle scorte temperature rigide negli Stati Uniti ancora forse anche per la prossima settimana perché c'è una tempesta di neve tra l'altro vedevo prima le immagini proprio sull'Iowa quindi il nord-est degli Stati Uniti non è messo benissimo da un certo punto di vista e quindi tutto questo significa più consumi e chiaramente il prezzo guardate qua che cosa combina con questi sbalzi quindi mi chiedevate se è il momento di entrare short direi che non ci siamo ancora guardate qua come continua a salire adesso staremo a vedere come chiuderà la giornata qui la giornata è appena iniziata ieri era il rosso e poi è chiuso in rialzo di quasi 5 punti percentuali oggi sta notte aperto in gap addirittura poi c'è il weekend nel weekend può fare qualunque cosa perché sapete che il lunedì in genere dopo il weekend fa il day gap o al rialzo o al ribasso comunque molta molta attenzione diciamo che il venerdì non è proprio il momento adatto per aprire delle posizioni sul gas perché poi il lunedì si rischia di prendere ceffoni dai gap e quindi molta attenzione sul gas andiamo sull'oro perché andiamo sull'oro allora innanzitutto che cosa ho fatto ieri ho fatto un po' di didattica un po' di analisi sull'oro qui siamo sul time frame a 15 minuti però adesso ve lo abbasso un pochino lo porto sul time frame a 30 minuti ecco qua allora ci andiamo un pochino ad abbassare qua allora cosa è successo? ho pubblicato questo grafico nel gruppo telegram cercando di spiegare un pochino senza utilizzare le candele vedete che non ci sono le candele senza utilizzare le candele ma utilizzando solo la linea del prezzo e utilizzando i volumi di sessione quindi in questo caso i volumi di sessione sono sul time frame a 30 minuti che cosa è successo all'oro? ho cercato di spiegare che l'oro ha subito un accumulo e poi una rotazione del prezzo quando era arrivato qua intorno a 1,950 dopodiché vedete è stato spinto fino a 1,940 1,850 1,840 dopodiché c'è stato un realizzo delle posizioni una congestione qui qualcuno probabilmente ha scambiato le posizioni ha cominciato ad accumulare un pochino il prezzo è sceso poi è recuperato poi guardate qua vedete qua qua c'è stata un'altra fase di accumulo vedete queste linee rosse che sono i POC delle sessioni c'è stata un'altra fase di accumulo vedete qualcuno ha cercato di spingere in basso il prezzo ma qualcuno l'ha riportato in alto perché non era ancora il momento e qui e qui c'è stata la rotazione proprio in questo momento qua e vedete che poi dopo è scesa e qui c'è stato proprio guardate qualcuno è andato a piazzare posizioni pesanti e giù è stato spinto il prezzo veramente verso il basso ora ieri poi che cosa è successo con la spinta verso il basso togliamo magari questo qua che confonde un pochino le idee ok con la spinta verso il basso siamo andati a toccare un minimo a 1,785 1,786 vedete qua e io ho detto occhio che potremmo arrivare anche a 1,780 poi ho visto che nel corso della sessione il prezzo qui è rimasto per almeno un'oretta è rimasto qui dentro dentro questa fase qua e vedete che infatti si è creato questo punto di accumulo qua con un rimbalzo io ho suggerito diciamo ai miei follower ai miei iscritti di tentare un'entrata long per prendere un piccolo rimbalzo sul gold quindi ok piccole piccole occasioni nulla di particolare utilizzando proprio i volumi quindi qua siamo entrati e qua adesso vedete che il prezzo è tornato verso di 1,810 poi tornate indietro 1,805 1,807 però da quello che ci dice al momento il volume e andiamo ad allargarlo un pochino vedete senza andare a guardare le candele qui stiamo facendo analisi utilizzando solo i volumi le candele non ci interessano perché poi ci portano fuori strada andando a prendere i volumi ci dicono che abbiamo ancora un cluster qua scusate mi sta andando via la voce un cluster qua molto forte per il momento quindi su 1,795 dove si sta appoggiando dove c'è una spinta del prezzo dopo che c'è stata quest'altra spinta però guardate che abbiamo questo cluster qua a 1,813 vedete 1,813 1,812 da cui vedete che proprio il prezzo poi qui è arrivato a 1,810 è tornato indietro significa che ha sentito il cluster di volumi posizionato qui e poi abbiamo questo cluster qua dicevo 1,795 che funge da supporto in più cosa abbiamo abbiamo questa linea gialla che è il WAP che ci sta dicendo che per il momento il prezzo resta sopra il WAP per chi fa scalping per chi fa trading di piccoli in piccole frazioni di tempo quindi di un minuto 5 minuti 10 minuti mezz'ora e così via quindi intraday il WPA con time frame sotto l'ora ok sotto l'ora meglio tra 5 e 15 minuti ci dà una sensazione ci dà una mano e l'avevo già fatto vedere in un video andate a vedere nel video che trovate nella playlist how to ok dove ci sono dei tutorial di trading vi fa vedere come utilizzare proprio il WAP per fare scalping per fare piccole operazioni di trading e quindi adesso ci stiamo utilizzando il WAP in realtà un po' come aiuto grafico come supporto per vedere che effettivamente il prezzo stia dandoci un po' di conforto qui ho detto io che dal mio punto di vista 1,840 è il target massimo per questa operazione 1,820 è già un buon target quindi staremo a vedere come si muoverà il prezzo oggi nel caso comunque arrivi riesca a rompere diciamo questa struttura qua 1,813 io ho già posizionato il mio stop loss a break even perché è un'operazione di breve termine non voglio perderci nulla quindi l'ho portato leggermente in positivo ma nel caso rompa diciamo questa resistenza qua posizionata da questi volumi qua 1,812 1,811 ovviamente andremo ad alzare il nostro stop loss portandolo dietro quindi azionando in qualche modo un trailing stop loss e questo volevo farvelo vedere perché è molto interessante quindi vi può essere davvero utile andiamo a parlare invece di crypto perché bitcoin torna a svegliarsi un pochino 37,500 quindi finalmente torniamo su livelli abbastanza piuttosto interessanti ancora molto molto bene ethereum 1,660 e torna a sfidare il record realizzato proprio ieri con questo spike qua intorno a 1,7 e poi c'è da dire che Elon Musk ha di nuovo messo il turbo a dogecoin con un tweet non so perché Elon Musk adesso gli ha preso questo pallino di spingere le criptovalute già l'aveva già fatto nei scorsi mesi poi cambiando il profilo twitter aveva messo un bel missile su bitcoin bitcoin ha fatto un razzo in effetti era schizzato poi era tornato indietro e adesso pare che ieri in qualche modo non ho controllato i suoi tweet ma ho sentito ho letto che Musk aveva in qualche modo contribuito all'innesco di dogecoin tra l'altro andiamocelo a vedere a me non è una criptovaluta che mi fa impazzire ce lo guardiamo dogeusd ce lo guardiamo qua sul bitrex tanto ci cambia poco non è una criptovaluta che a me piace particolarmente però guardate qua che balzi che ha fatto e vabbè staremo a vedere allora poi abbiamo Stellar che continua a cercare di rompere questa struttura sui 0 134 ancora senza troppa fortuna ma ci sta provando abbiamo Litecoin che soffre un pochino di più 153 Ripple 0 43 è tornato a salire Ripple 0 43 dopo questi grandi spike qua e quello che invece mi piace molto è l'andamento di Binance perché Binance è davvero secondo me un ottimo progetto e continua a crescere in maniera abbastanza confortante soprattutto in maniera costante diciamo malgrado queste grosse volatilità ma è normale sulle cripto bene per il momento è tutto non ho molto altro da dirvi spero che questo video vi sia stato utile come sempre vi chiedo di aiutarmi a diffondere il canale come vi ripeto sempre questo canale non è monetizzato non ci guadagna niente però visto che abbiamo già raggiunto un bel numero di iscritti siete 600 quindi sono davvero contento cliccate sulla campanellina iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina rimanete sempre aggiornati ci vediamo ai prossimi aggiornamenti sicuramente nel weekend faremo un punto della situazione e come sempre stay tuned e finger crossed ciao a tutti grazie a tutti